Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere il problema sul desktop che le icone non si vedono più oppure quando hai fatto un nuovo aggiornamento su Windows 10 o Windows 11 le icone non si vedono più sul desktop quindi in questo video ti spiego due passaggi su come risolvere questo problema andiamo un attimo su Regedit, editor del registro di sistema, esegui come amministratore questo registro in descrizione ti ho lasciato un comando da inserire qui sopra, quindi fai incolla, eccolo qua e poi fai invio una volta entrati così nel suo percorso file andiamo su icon spacing, ci clicchiamo sopra e su trattino 1 1 2 5 qua metti 8 e fai ok lo fai anche su icon vertical spacing, ci clicchi sopra e scrivi 8 e fai ok una volta fatto chiudi così questo registro e rivi così il sistema se è un problema su direttamente sulla schedina che premi sul desktop quindi tasto destro sul desktop questa qua visualizza mostra icone del desktop, eccole qua e questo qua era il secondo metodo quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo alle icone che non si vedono sul desktop se hai problemi commenta sotto al video io farò in modo di lavorare su un'altra guida per risolvere il suo problema e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!